Ciao a tutti sono Maxionata e sono qui per provare e dimostrarvi questi due meravigliosi bocchini prodotti da Raffael Navarro. Il primo che andrò a suonare è questo ed è un modello maestra con un'apertura 7 stella ed è il becco che uso quotidianamente da un po' di tempo e ritengo che sia un prodotto veramente eccezionale perché riesce a diciamo ad accontentare un po' tutti i gusti è un ha una camera tipo ottolink ha un suono molto pronto un suono caldo e grosso come tutti vogliamo però ha anche una grandissima proiezione quindi non perdiamo mai nulla di quello che suoniamo ma forse è meglio che sentiamo come suona quindi mi preparo e vi faccio ascoltare qualcosa con un'apertura Grazie a tutti. 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 Il becco che Raphael ha costruito per il grande Bob Minzer, infatti il modello è Bob Minzer Bebop Special. È un becco molto particolare, molto bello. Non so dirvi quali siano le particolarità tecniche, ma posso dire che ho l'impressione che abbia una camera leggermente forse più piccola dell'altro, però ha una grande proiezione, comunque ha un grande suono lo stesso. A me piace molto, proverò a suonare qualcosa con questo becco meraviglioso e vediamo insieme quale è il risultato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.